ASTRONAUTICAST ASTRONAUTICAST Stagione 5, episodio 2 Ancora un po' alle prese con i capricci del nuovo studio O meglio della nuova impostazione per lo studio Per avere anche il podcast in formato video Il volume scende veramente troppo ripidamente Qua dovremmo metterci le mani Magari un'altra volta qualche minuto prima Qualche ora prima della puntata invece che qualche minuto prima Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano Non è qui con me come nella scorsa stagione Ma abbiamo già sperimentato il collegamento in fibra neutrinica La volta scorsa, Paolo Amoroso Vi saluta Paolo Amoroso, sempre da Milano Non degli Astronautica Studios Ma con un audio ancora migliore rispetto all'episodio precedente Sì, ci proviamo, però il plugin di Google Continua a tirare giù i volumi in maniera abbastanza Decide lui quando, ma fa niente Prima o poi arriveremo a domare anche questa bestia Paolo Amoroso, lo potete leggere Adesso mi pare che sia in pausa Però quando è attivo e pubblicante Su avventureplanetarie.blogspot.com Dove pontifica e racconta quelle che sono le sue impressioni Sul mondo della divulgazione della scienza O nel modo in cui lo dice lui Della comunicazione e divulgazione scientifica Comunicazione è la parola più moderna, dicevi una volta Mi ricordo che hai fatto questo discorso Bah, diciamo, sono concetti non completamente sovrapponibili Ma in prima approssimazione si possono considerare la stessa cosa Va bene, va bene Allora cerchiamo di cambiare la regia Questo è Paolo Amoroso Io prima mi sono cliccato ma non serviva niente Sono qua anch'io, eccomi qua E continuiamo il giro Andando a ovest del Ticino non c'è Marco questa volta Quindi saltiamo direttamente a ovest dal nostro Luigi Morielli Buonasera a tutti e benvenuti a questa seconda puntata Ovviamente in ritardo come sempre Luigi Morielli è su astrogation.blogspot.com Ma anche tu mi sembri un po' in affanno ultimamente Posti questi riassunti Ma ti dico la verità Ultimamente faccio fatica anch'io a seguire E i tuoi post di riassunto sono molto molto comodi Per avere appunto, diciamo, il polso della situazione Non dovrebbe essere così per chi tiene in piedi un podcast di astronautica Però siamo un po' tutti succubi di quella cosa che si chiama vita reale Non che il podcast non sia reale Però, insomma, la scala delle priorità ci porta a cambiare un attimo I nostri piani ogni tanto Finiamo il giro C'è il nostro Riccardo Rossi da Monlena Ciao a tutti quanti Hai visto, Mike, che questo giro non ti ho tossito sulla sigla? Ho rischiato di farlo Nel senso che sono super raffreddato Un tachiflu e un caffè caldo Mi hanno più o meno liberato il naso poco prima della puntata La voce non sarà delle migliori Ma cerchiamo di accontentarci Quello che, se la voce anche torna Quello che non torna è la mente Quella non c'è Ragazzi, non ce la posso fare Ma Michael è in modalità Apollo 7 Una missione dell'ottobre del 1967 In cui tutto l'equipaggio fu colpito da influenza Raffreddone, insomma Una condizione simile a quella di Michael questa sera Sì, peccato che non sono in abita Ma forse è meglio così Perché non sarei in grado di tornare a casa Marco invece questa sera è stato sequestrato dalla moglie Mi sembra che abbia dato all'ultimo minuto Forfè Non ho capito se si era dimenticato l'impegno Che cosa è arrivata la notizia Vabbè, salutiamo Il nostro Marco Zambianchi Presidente dell'associazione ISA Che ci ascolterà in differita A televiso al podcast O magari ci sta anche ascoltando in diretta Ma non so se gli ho dato le coordinate Perché Da quando siamo tornati in formato video Con Ustream Invece che con Livestream Anche se Le ultime puntate mi pare che fossero in mobile Anche con Livestream Comunque adesso abbiamo uno stream Completamente mobile compliant Se andate su Un canale che assolutamente non ricordo Potrebbe essere qualcosa Sparcher Perché forse è il mio vecchio nickname Non lo so Lo metteremo magari nelle notte dell'episodio Potrete anche avere la possibilità di seguirci in mobile Altrimenti Ci guardate su YouTube Dopo la puntata Abbiamo fatto questo esperimento la volta scorsa Tecnicamente c'era molto molto Da imparare Però siamo riusciti a caricare un video Di praticamente due ore su YouTube Grazie al fatto che i limiti sono stati tolti Se si certifica il proprio nick Attraverso un SMS Così sanno chi venire a prendere Se pubblicate l'ultimo Colossal di Hollywood O i video musicali Noi mettiamo musica assolutamente Priva di gabelle e tasse varie La musica che vi mandiamo è in particolare Non l'abbiamo detto la volta scorsa La sigla nuova si chiama Cittadini del presente È di un artista che si chiama Iska Con la K India Sierra Kilo Alpha Lo trovate su jamendo.com Dove abbiamo preso la musica Da Fin dalla prima Nella prima puntata di Astronauticas È un portale che vi permette di accedere alla musica In Creative Commons Con vari livelli di licenza Creative Commons Potete usarla per i vostri progetti personali Di solito se non avete scopo di lucro Potete tranquillamente usare le canzoni senza pagare nulla E poi Scusate cambiavo l'inquadratura E non sono ancora la regia abbastanza veloce ragazzi Mi sono accorto che fissavo Luigi che sbadigliava Non mi sono accorto Io sono indietro E quindi Comunque Iska Cittadini del presente Abbiamo un artista italiano per la prima volta Abbiamo avuto spagnoli, polacchi E questa volta un artista italiano Andiamo avanti con Comunque se volete il link di Iska Lo trovate nelle note dell'episodio Questa volta anche dell'episodio precedente Siamo stati abbastanza ligi Abbiamo tenuto fede alla licenza Che richiede la attribution E abbiamo detto chi è l'artista Non l'Iska Iska Iska con la K Non l'Iska In chat dicono l'Iska Non ho sottomano la chat Vediamo un attimo No neanch'io Ah ok Non ci crederete Nessuno ha detto l'Iska in chat Aspettavolo che lo dicessi tu forse Non lo so Riccardo Con un 24 pollici E uno schermo aggiuntivo Non riesco a far stare tutto quello che voglio guardare Ci vorrebbe una cosa alla Minority Report Allora la chat l'abbiamo messa più o meno visibile Chiedono la chat Adam Certamen Bonik Che è l'artista della canzone dell'anno scorso È polacco Abbiamo davanti la scaletta Finalmente Allora la volta scorsa non l'abbiamo mandato L'abbiamo fatto La prima volta la saltiamo da tempo Non abbiamo inviato la puntata a Diego Urbina Sarebbe stato anche un po' complicato Perché era grande Era veramente il doppio della dimensione normale Forse l'ho incodata anche un po' più di qualità Quindi diventava difficile Ma la verità è che mi sono dimenticato Allora un saluto a Diego Urbina Che comunque sta avendo sempre più Occasioni di comunicare con Terra Perché O meglio Ricordiamo che Diego Urbina è all'interno di Mars 500 Un simulatore di una missione marziana Stanno tornando virtualmente da Marte E ormai sono a una distanza tale Simulata dalla Terra Che permette una comunicazione bidirezionale Senza tempo Senza delay Di conseguenza Può praticamente telefonare a casa Mettiamola così E comunque avremo cura di mandargli la puntata Anche in questo caso Perché non è ancora in condizioni di ascoltarla in diretta E tanti saluti a Diego Non vediamo l'ora che esca di Per prenderlo E costringerlo a un'altra La terza sessione di domande e interrogatorio Magari in diretta col botte risposte È un po' più semplice Rispetto a mandare le domande E ricevere le risposte Sto parlando soltanto io Per quanto riguarda le notizie E le comunicazioni personali Ce n'è anche una da parte mia Che era stata erroneamente Segnata in scaletta Come già detta Ma volevo annunciare Che nei prossimi episodi Di Astronauticas La mia partecipazione Sarà molto più sporadica Per una serie di impegni gravosi Che richiedono tutto il mio tempo E tutta la mia attenzione Quindi per alcune puntate Non sarò presente Per altre Magari mi limiterò a fare A fare soltanto qualche breve intervento Qualche breve cenno Per altre invece Potrò essere completamente presente Dall'inizio alla fine Non sono ancora in grado di sapere In quali e quante puntate Potrò partecipare completamente Paolo la squadra è grande Riusciamo a fare anche la tua parte Se necessario Quando vuoi Noi ci siamo E colgo l'occasione Per un'altra comunicazione personale Di cui per il momento Avevo fatto cenno Soltanto arresto all'equipaggio Si tratta di una buona notizia Nel senso che La mia rubrica Annali Marziani Che era nata poco più di un anno fa Per prendere spunto Dalla missione di Diego Urbino La missione Mars 500 Per raccontare la storia Dell'esplorazione E della conoscenza di Marte Terminerà con l'atterraggio simulato Di Diego Urbino Il 4 novembre Quindi questi sono gli ultimi episodi Di questa rubrica Ma tornerò con una nuova rubrica Che per il momento è segretissima Il nome è custodito Negli Astronautica Studios In una cassaforte Affidato a Michael Il quale ha nella stessa cassaforte Anche il prototipo dell'iPhone 6 Mi raccomando con Michael Puoi dimenticare in un bar Il prototipo del nuovo iPhone Ma cerca di non lasciare in giro Il nome di questa rubrica Che è veramente segretissimo Un segreto che non sa nessuno Il nuovo iPhone 6 monta Android Che si è spento il dispegno Ok Per il momento ho terminato Le comunicazioni personali Va bene News Passiamo alle news Questa sera mi sa che Ce la sciacquiamo Veramente Veramente In pochi minuti Sia per le news Sia per tutto il resto Anche se poi La chiacchiera Si fa sempre Lunga Più di quanto prevediamo News Le sto guardando Le ho fatte scorrere Eccole qua NASA Cerca aspiranti Per la prossima classe Di candidati astronauti Si da novembre di quest'anno Quindi del 2011 La NASA inizierà a selezionare Una nuova classe di astronauti Il processo di selezione Sarà abbastanza lungo Circa Durerà circa un anno E quindi I nuovi astronauti Di questa classe Verranno Annunciati soltanto Nel 2013 La notizia non dice Quanti nuovi astronauti Verranno selezionati Ma Facendo riferimento All'ultimo concorso Di questo tipo Quello del 2009 Direi che potrebbero essere 12 o 13 Come l'altra volta Ecco In questi casi Molti si chiedono Perché la NASA Stia selezionando Nuovi astronauti Dopo la chiusura Del programma shuttle Tenendo conto Anche del periodo lungo In cui La NASA Non avrà accesso Diretto Allo spazio Proviamo allora A cercare di capire Perché possono servire Tutti questi astronauti Con un semplice calcolo Una semplice stima Allora immaginiamo Una missione Della nuova capsule A Dragon Che potrebbe volare Fra tre o cinque anni Che ha Un equipaggio Di sette astronauti Immaginiamo anche Che uno di questi posti Sia riservato A uno dei partner Della stazione Spaziale internazionale Per esempio Un posto riservato Al laser Quindi rimangono Sei astronauti americani Per ogni missione Poi ci vuole anche Un Capcom Cioè un astronauta Che comunichi via radio E' l'unico abilitato A comunicare via radio Dal controllo missione Di Houston Con i suoi colleghi Nello spazio Quindi ci vogliono Astronauti Per comunicare 24 ore su 24 Quindi tre turni Quindi altri tre astronauti E siamo già A nove astronauti Poi ne servono Un altro paio Perché nel caso Di imprevisti Per esempio Se fosse necessaria Una passeggiata Spaziale Un'attività extraveicolare Al di fuori Della stazione spaziale Per risolvere Un problema Almeno un paio Di astronauti Dovrebbero Provare La passeggiata Spaziale imprevista Nella grande piscina La Neutral Buensi Facility Del Johnson Space Center Della NASA Quindi servirebbero Altri due astronauti E siamo a undici Teniamo conto Che anche prima Di una missione Un altro rappresentante Del corpo degli astronauti Almeno uno o due Preparano Configurano La capsula Impostando Tutti gli interruttori Facendo tutte le configurazioni Che servono Prima del lancio Quindi arriviamo A dieci O undici astronauti Per una singola missione Poi gli astronauti Servono anche Per ruoli di supporto A terra Per esempio Per dare consulenza Rivedere procedure Che vengono preparate Per sperimentare Nuove attrezzature Da provare A utilizzare Nello spazio Quindi Ci rendiamo conto Che Anche se Ci sono già Molti astronauti In servizio Con la chiusura Del programma Shuttle Alcuni di questi Avranno Un'anzianità Troppo Troppo grande Quindi saranno Troppo vecchi Per quando Riprenderanno I voli umani Quindi il corpo Astronauti Si riprenderà Molto meno La stima che ho fatto Quindi una dozzina Di astronauti È valida Solo per una missione Ma In ogni momento Dell'anno Insomma Ne sono Ne sono pianificate Anche diverse Quindi può esserci Una missione successiva Ancora con gli astronauti In addestramento Che raddoppia Queste richieste Quindi siamo Tra i 20 e i 25 Astronauti richiesti Per un paio di missioni L'anno Quindi se teniamo conto Di tutte queste cifre Di tutte queste necessità Vediamo che Tutto sommato Può non sembrare Così strano Per la NASA Selezionare Selezionare Un grande numero Di nuovi astronauti Anche in un periodo Di pausa forzata Dei voli umani Dovuto alla Mancata capacità Di raggiungere Autonomamente Lo spazio Con un equipaggio umano Che ha adesso La NASA Per il momento Se volete diventare Dei dipendenti pubblici Con Facoltà di andare In trasferta Possibilmente Potete Tentare questa cosa Bisogna essere cittadini americani Suppongo Giusto? Sì I requisiti sono I soliti Essere cittadini americani Avere una laurea In discipline Ingegneristiche O scientifiche Oppure L'altro classico Percorso di accesso Alla carriera di astronauta E di Essere dei piloti Quindi Dalla carriera Del pilotaggio E di avere Per Entrambi i tipi Di provenienza Quindi Tecnico-scientifica Oppure di pilotaggio Ci vogliono almeno Tre anni di esperienza Di lavoro Nel settore Sono passati Essere un avvenente Ballerina O subretto Può Aiutare L'incesso Beh Sono passati i tempi In cui Sull'euforia Delle prime missioni Shuttle Si pensava Anzi Siamo andati in orbita Il giornalista Siamo andati in orbita Il politico E si pensava anche Di mandare in orbita Il poeta Vero Paolo? Sì Ma Anche se non tutti I nuovi astronauti Di questa classe Voleranno subito Ci sarà Lavoro Da astronauta Per tutti Già da subito Vabbè Assolutamente Novità Allora Da quel lato L'Atlantico Novità Anche da questo lato L'Atlantico La data del 4 ottobre È stata ricordata Su astronauti News.it Il nostro portale In particolare In un articolo Di Luca Frigerio Perché è la data In cui ESA e Astrium La principale industria Aerospaziale Europea Una delle più grandi Hanno comunicato E annunciato La loro nuova Partnership Per la produzione Di EDRS European Data Relay System In pratica Che cos'è? È una rete? Attualmente Sono previsti due satelliti Ma potrebbe evolvere Ulteriormente Due satelliti al momento Per coprire L'intero globo Con una rete di comunicazione In banda ottica Quindi non soltanto In banda radio Ma in banda ottica Questo permette Di risolvere innanzitutto Un problema abbastanza Che non viene percepito molto Ma lo spazio è molto grande Però le frequenze A disposizione sono quelle Le frequenze che sono più adatte Per parlare Dall'orbita a terra O anche tra satelliti in orbita Sono limitate Ci sono alcune più Lo spettro delle radiofrequenze È molto grande Ma alcune sono più adatte Di altre E quindi Questo porta A interferenze E alla necessità Di dover segmentare La banda utilizzata In divisione di tempo Divisione di frequenza In generale Con un'efficienza molto bassa Questo tipo di Collegamenti ottici Invece Sfruttano dei laser Per trasmettere informazione Con la luce Di fatto si tratta Di un concetto analogo A quello della fibra ottica Con la differenza Che manca la fibra È soltanto Una trasmissione di luce Attraverso un laser Direttamente Da satellite a satellite O da satellite a ground station Potevano usare neutrini Sì infatti Noi abbiamo la fibra Neutrinica L'abbiamo detto La volta scorsa Acquistata grazie Alle vostre donazioni I nostri studio Sono collegati Con la fibra neutrinica Che va più veloce Della luce Con i tunnel Scavati Grazie alle vostre donazioni Ma invece Nello spazio Non si possono scavare I tunnel per i neutrini E poi c'è molto rumore Neutrinico Che arriva da sole O da altre Fonti Extraterrestri Quindi Se vogliamo Comunicare In maniera più efficace Con i nostri Satelliti Nello spazio Il laser È una delle opzioni È stato Fino adesso È dimostrato solamente Con dei dimostratori In orbita bassa Sono stati Messi in formazione Dei satelliti E è stata fatta Una Trasmissione di test Delle trasmissioni di test Tra questi satelliti Ma non è ancora Una tecnologia Che ha raggiunto La maturità Conclamata Però questa Partnership Permette Di investire E sviluppare Un progetto concreto Che sfrutta Il collegamento ottico Un progetto Non è proprio Una partnership O meglio Non è una joint venture È più una Quella che si dice Public private partnership È un progetto Pubblico Perché È finanziato Quasi interamente Da ESA Con i suoi 275 milioni di euro Ma anche Astrium Investe L'articolo parla Di qualche decina Di milioni di euro Comunque Diciamo che Partecipa Al rischio Di un progetto Del genere Quindi È una timida Apertura A un'economia Di mercato Anche nel Continente europeo Anche se siamo Ancora lontani Da quello che Si punta ad avere Negli Stati Uniti Con i contratti Puramente commerciali Che vogliono Nascere Nell'ambito del Trasporto In orbita bassa Sono comunque Ambiti molto diversi Non voglio fare Paragoni Troppo Arditi Ma adesso L'articolo si dilunga Con dettagli tecnici Che mi invito Ad andare a leggere È molto molto lungo Diciamo che È un rischio Anche per Astrium Perché si tratta Di un sistema Che non ha ancora Un mercato Nel senso che Non ci sono Satelliti Che sono in grado Di sfruttare Questo tipo di tecnologia Al momento Probabilmente ci saranno In futuro E il programma europeo GMS Global Monitoring For Environment And Security Avrà i due Primi satelliti Sentinel-1 E Sentinel-2 Che implementeranno Questa tecnologia Mi è stato al vantaggio Di poter avere Un collegamento In tempo reale Praticamente In qualsiasi punto Dell'orbita Si trovi In due satelliti Con una banda Molto molto grande Si parla di Qualche gigabit Se non ho letto male Vedremo Vedremo come Evolverà questa cosa È un po' tecnica Un po' nerd Però volevo raccontarvela Perché Fa vedere che Ci sono delle evoluzioni Ci sono delle cose nuove Anche in un settore Che a volte Viene considerato Un po' tradizionalista Come quello Dell'accesso Allo spazio O comunque Della industria Aerospaziale Voi avevate letto La notizia Qualcuno Ha dei commenti? Nessun commento particolare Avevo letto la notizia Staremo a vedere Arrivata anche la segnalazione In chat Del nostro Matteo Di questa notizia Quindi ci tenevo A coprirla Invece Notizie buone In America Notizie buone In Europa Notizie un po' Meno buone Ma andiamo a vedere Anche con che Cognizione di causa Cosa ne pensa Il nostro Uigi Che parla sempre Con cognizione di causa Con la cancellazione Del programma Rus Come l'ho pronunciato? È una di quelle cose Che leggo e basta E non sento mai dire Come si pronuncia? Eh Vi direi Rus-M Perché se no Pronunciarlo in russo Quindi non saprei come fare Diciamo che La cosa Simpatica È Il direttore della Roscosmos Vladimir Popovkin Che va Alla Duma Che è il Parlamento russo E dice Siamo giunti alla conclusione Che non abbiamo bisogno Di un nuovo razzo E che possiamo continuare A utilizzare Quelli che abbiamo già Stavano sviluppando Appunto Questo nuovo vettore Che avrebbe dovuto prendere Nel tempo Il posto della Soyuz E evidentemente Mi sono resi conto Che il La Soyuz È abbastanza affidabile Diciamo che Dall'alto dei suoi 1776 lanci Che ha avuto Che Del vettore R7 Che è quello da cui È stato derivato Soyuz E tutti quelli Di quella categoria Diciamo così Di quella classe Ha avuto 99 falimenti Su 1775 lanci Direi che È una media Più che buona Probabilmente Tutta questa Esperienza Che ha accumulato Roscosmos Con Energia Quindi con Questo tipo Di vettori Si è Res evidente Soprattutto con Il fallimento Che c'è stato Dell'ultimo lancio Progress Ricordiamo che Il 24 di agosto La Progress M12M Non ha raggiunto La ISS Ma è precipitata A Terra Ed è stata La prima volta Che una Progress Non raggiunge L'orbita Dopo tutta L'esperienza Che ha avuto C'è ancora stato Un problema Di questo tipo Forse potrebbe Anche essere Un motivo Per cui Loro hanno detto Ma chi ce lo fa fare È di sviluppare Qualcosa di nuovo Completamente nuovo Che deve Arrivare Fino a Questo livello Di sicurezza E poi Non c'è da dimenticare Il fatto che C'è in sviluppo Il vettore Angara Che è Comunque un vettore Molto flessibile Perché si parte Da una versione A singolo A singolo vettore Con due booster Quattro booster Dall'angara 1 All'angara 5 Sono tutta Una serie Di vettori Che Effettivamente Potrebbe essere Una svolta Un po' Per tutto Quello che serve Ad una Agenzia spaziale Moderna Consideriamo Anche il fatto Che Avere due Vettori in sviluppo Come ci ha Dimostrato La Come ci ha dimostrato Un'angara Che potrebbe essere Una Panacea Perché Ha delle versioni Per tutte Le necessità Di fatto Quando sarà Terminato Sarà Decisamente L'uovo Di colombo Diciamo Così E questo Rus M È stato In questo modo Cancellato Come Programma E quindi Entrerà a far parte Di quella schiera Di vettori Che non hanno mai Visto L'orbita Stavo guardando Intanto Le immagini Dell'angara Nella Sul forum C'era una bella Foto Di modelli Anche Nella discussione Proprio Su questa notizia Ricordano Un po' Il delta 4 Americano Con questi Booster E anche La forma Sì infatti Ricordano molto Il delta 4 Però questo Arriva ad avere 4 booster Invece Ne sono solo 2 Quindi Diciamo che Arriva anche Io vedo una versione Da 6 booster Anche in questa immagine Ah 6 booster Sì Magari è soltanto Un'ipotesi Magari è già stato Cancellato Ma nella versione Da 6 booster Cambia anche Il diametro Della Della parte superiore E quindi Il fairing Per forza Perché avendo A disposizione Un carico Più più grande Da portare in orbita Deve avere anche Più volume Ovviamente Già Già Oppure Mandare su Roba più densa Ma non è forse Il caso Sì Vabbè Spedire in orbita Un satellite Di tungsteno Invece che Mandarlo di alluminio Forse non è Una soluzione Di tungsteno Non è venuto in mente Perché le lampade La scarica La classe R7 Dal 1957 Che viaggia verso l'orbita Quindi Ha un bel Un po' di anni Gli ha sulle spalle Infatti Non verrà sostituita Se passa l'angara L'angara sostituisce Il Proton Come classe Non Sì Beh Diciamo che Essendo un nuovo vettore Magari si potranno Anche pensare Di fare Una Una versione Manded Perché comunque Il discorso è quello Sostanzialmente Rus M Sarebbe stato Il vettore Manded Qui invece Si trovano bene Con questo Di fatto Vabbè Noi staremo qui A raccontarvi Per quanto Possibile Per quanto Nelle nostre capacità Queste tipo Di notizie Chi invece Si occupa Di divulgazione Di rendere Famose E Famose no Di rendere Conosciute Al grande pubblico In particolare Ai giovani Le attività Spaziali Nasa E altri Enti Che ci racconta Il nostro Orecchio Sì Sono un po' tutte Le agenzie spaziali Chiaramente Nasa In primis Che Da sempre Stanno da fare Per Stimolare I ragazzi Più giovani Ad avvicinarsi Al mondo Della scienza E in particolare Dell'astronautica Ci sono in corso In questi giorni Due belle iniziative Che vi vado adesso A descrivere La prima Si chiama Mission X Che probabilmente Qualcuno Se qualcuno Si interessa Di astronautica L'ha già sentita Nominare Perché in realtà Un progetto pilota C'è già stato Infatti Se vi ricordate Anche Paolo Nespoli Quando era Nello spazio Per la sua Missione magistra Ha Mandato Qualche foto In cui lui Teneva Un cartello Con scritto Mission X Mentre era intento Non so A correre sul tapirulan O comunque Mentre stava Facendo attività fisica Questo perché Mission X La sua Diciamo Nome completo È Mission X Allenati come un astronauta Ed è un'iniziativa Rivolta A ragazzi Che vanno Dagli 8 ai 12 anni Ed è incentrata Sul sensibilizzarli A capire L'importanza Dell'attività fisica E dell'alimentazione Proprio ispirandosi A quello Che fa Un astronauta Quindi All'allenamento Tipico Che fa Un astronauta E quindi Si chiede Alle scuole Interessate Di formare Dei gruppi Di massimo Direi 15 studenti E le varie scuole Si metteranno In competizione Tra di loro In varie attività Sempre ispirate Il mondo dello spazio E ad ogni attività Verrà assegnato Un punteggio E alla fine Ci sarà Una classe Vincitrice Che avrà L'opportunità Di conoscere Un astronauta È Secondo me Un'iniziativa Molto carina E quindi Se avete Dei figli O comunque Se siete insegnanti Potete Secondo me Attivarvi Per poter Organizzare Questa cosa Con la volta a scuola C'è poco tempo Perché in questo caso Dunque scade Il 24 di ottobre L'iscrizione E dovete avere Una scuola Che ovviamente Ha una palestra Perché Come avrete potuto Intuire Molte attività Sono Educazione fisica Comunque C'è bisogno di spazio Per poter fare I vari giochi Le varie attività E deve essere Diciamo Questi gruppi Di ragazzi Deve essere La supervisione Di un professore Di scienze O comunque Qualcuno che si occupa Di insegnare scienze E chiaramente Anche un docente Di educazione fisica Per i contatti Per quanto riguarda L'Italia Li potete trovare Sul sito dell'Asio Oppure anche Del planetario di Milano No? Vero Paolo? Sì Anche il planetario di Milano È fra i partner Di questa iniziativa Seguo in particolare Mission X Per il planetario di Milano Cristina Olivotto Che gli ascoltatori Di questo podcast Di form Astronautico Conoscono E per il momento Abbiamo già ricevuto Qualche adesione Ma vi invitiamo A mandarne altre Se siete interessati A partecipare Nella nostra zona Insomma La zona Intorno a Milano O nel nord Italia Cristina Olivotto Potremmo anche Chiedere di partecipare A una delle nostre puntate Per raccontarci Quest'esperienza Magari verso Verso la fine Del progetto E non solo Questa esperienza Diciamo che non è la prima Di cui si occupa Mettiamo così Allora Mentre invece C'è Scusami Mike No no vai Deve ne ce n'è ancora una Ti stavo per Passare sopra Vai 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 Per diciamo Invece I ragazzi Un po' più grandi Cioè Dalla fascia d'età Che va dai 14 18 anni C'è un'altra Iniziativa Ancora Che si chiama Youtube Space Lab Questa Iniziativa È un po' più Diciamo Chiaramente Visto che Invita a partecipare Di ragazzi Un po' più grandi È un po' più Di alto profilo Per così dire Perché viene richiesto Ai ragazzi Di pensare Ad un progetto Ad un esperimento Da poter Effettuare Sulla stazione spaziale Quindi se voi Andate sul sito Chiaramente I link Vi lasciamo Nelle note Dell'episodio Andate sul sito Dello Youtube Space Lab Ci saranno scritti Diciamo I vari paletti Che i vari gruppi Di ragazzi Devono avere Per fare questo Esperimento Perché sulla stazione Spaziale Non è che Si può fare Qualsiasi cosa Avrete Un'idea Di quale Materiali Potete usare Insomma Di come Potete muovere E Potete Proporre La vostra idea Mandando Un video Appunto Perché è Youtube Che Diciamo È il contenitore Di questa Sfida Un video Dove voi Presentate Il vostro progetto Potete farlo Solo Potete farlo In team Ci saranno Due Due fasce Di categorie Cioè I ragazzi Dei 14 E i 16 E i ragazzi Dei 17 E 18 E non so Se l'ho già detto Termine 7 dicembre Quindi Ingegnatevi Perché Se sarete bravi Oltre E vincerete Comunque Sarete Tra i finalisti Oltre a avere La possibilità Di vedere Effettivamente Il vostro esperimento Effettuato Nello spazio Potreste andare A vedere Il lancio Del vostro esperimento Verso Spaziale Si parla Di andare In Giappone Quindi Suppongo Che sarà caricato Su un HTV Un HTV Quindi Quindi bello Oppure Addirittura C'è Un altro premio Per andare In Russia E fare Una sorta Di Addestramento Propedeutico Per diventare Astronauti Quindi Sicuramente Un'iniziativa Allettante Mi sono scusato Di dire Che questa Iniziativa Ok È su YouTube Però La promuove Space Adventures Che la conosciamo Per avere Diciamo Famosa Per i voli Turistici Sulle Sulle Soyuz E però Comunque È patrocinata Sia da NASA Sia da ESA Sia A JAXA E tanti Comunque Tanti altri Sponsor Di rilievo Grazie Riccardo Io rimango Estasiato Quando Innanzitutto Ti chiedo scusa Perché per una parte Del tuo intervento Inquadravo Paolo E non inquadravo te Ma La tua posa Appoggiata Rilassata Alla poltrona È qualcosa Di assolutamente Professionale Sono Sono estasiato Bravo Eh ma sotto Sono in mutande No Non è vero Va bene E questo è il momento Di solito Dell'interludio Non abbiamo ospiti Da sottoporvi Anzi siamo addirittura Noi in meno Quindi È arrivato il momento Di battere cassa Ma prima di farlo Ringraziamo Quelli che hanno Donato qualcosa Durante questa settimana Abbiamo Un Anzi due Iscrizioni Alla Associazione ISA Quindi hanno Donato 18 euro Diciamo non è soltanto Una donazione Per astronautica Ma Va nello stesso calderone E ci aiuta Ugualmente Abbiamo Ivano Viano Che Spero non si abbia male Ma io ho sorriso Quando ho visto il suo nome Perché ha il cognome Che è un anagramma del nome O viceversa Direi il contrario Molto geek Sì Diciamo che Divertente E poi invece abbiamo Marco Bruno Anche conosciuto Su forum Astronautico .it Come India Kilo 1 Oscar Delta Oscar O Ikiodo Se lo leggete Molto velocemente L'effetto è quello Uno dei radioamatori Ma non soltanto È un Un vero Esperto Di elettronica Di Tecnologia Fa sempre Gli interventi Che mi lasciano Estadiato Una volta Gli ho detto Che avrei voluto Che lui fosse Mio zio Perché Parlava di Tremini Forse Cosa parlava Era una cosa Veramente molto bella Che mi Mi ha fatto Desiderare di essere In contatto con persone Di quel calibro lì Perché è veramente Un appassionato di tecnologia Tutto tondo Quindi salutiamo Marco Bruno Salutiamo anche Il fratello di Marco Orso Vabbè Volevo Volevo Salutarlo anch'io L'ho conosciuto Quando abbiamo fatto Il collegamento Da Da Osta Con Paolo Nespoli Che c'era Al Telebrigi Con Roma Era lui che curava La parte tecnica Del Collegamento Sì ma lui Forso Bruno Ma Non era necessario Rivangare Anche questa Uscita di Riccardo Forse un po' troppo Gavanizzato Dei complimenti Di prima Ma vabbè Ok tu non stare zitto Allora L'altra cosa Che faccio In questi casi È la questua Ovvero Chiedervi Di donare Su astronauticast.com Trovate Dei bottoncini Per poter Fare Delle donazioni E la possibilità I bottoncini Sono quelli Riccardo Sì È un messaggio Per Quasar Cic e ciac Cliccate sui bottoncini E avete la possibilità O di fare una donazione One time Singola Della Entità che volete Allora colgo Anche l'occasione Per ringraziare Due donatori Che vogliono Restare anonimi Però che hanno Fatto questa cosa Ovvero la donazione One time E poi Quella Di sottoscrivere Una sorta di abbonamento Che potrebbe essere Dell'ordine Dei Cinque O tre euro Mi pare che sono questi Tagli che abbiamo Forse si possono variare E avere Una automatica Donazione Ogni mese Una volta al mese E diventare così Produttori esecutivi Ricorrenti Del nostro podcast Paolo Amoroso Forse è scivolato Fuori dal podcast Vediamo Dall'hangout Vediamo un po' Se riusciamo a farlo tornare Vabbè Mentre si arrampica Dovrebbe esserci ancora Il link per entrare Quindi Lo aspettiamo Intanto volevo ricordare Anzi Introdurre un altro modo Per aiutarvi Per aiutarci Uno è Quello di farci conoscere Questo Raccontate a vostri amici Che ascoltate Astronauticast Raccontategli che cos'è Ditegli che Testa li Siamo E facciamo Il casino del giovedì sera Fatelo sembrare Una cosa intelligente Poi arrivano qua Scoprono che non lo è Però Dategli un attimo L'illusione E sicuramente Questo ci aiuta Un modo Per farci conoscere di più E andare su iTunes E valutare E commentare Il nostro podcast E' una cosa Abbastanza Potente Nel senso che I podcast in Italia Sono molto Poco utilizzati Specialmente Quelli su YouTube Quindi è relativamente Facile salire In classifica Noi siamo Intorno al Trentesimo podcast Più ascoltato Noi cerchiamo di Essere un'alternativa All'old media Quindi non è che vogliamo Andare con loro Ma vicino a loro Ci fa comodo Andate su iTunes E cercate Astronauticas Commentate Mettete le stelline Mettete quello che volete Dite anche Come dice il trio Medusa Su Radio DJ Cosa che dicono loro Non citiamoli Va Che mi è venuto in mente Adesso No non si può dire E poi E poi Troverete Speriamo di riuscire A salire un po' La classifica Diventa veramente Una vetrina Molto molto potente Una volta che si Finisce nelle prime pagine Comincia a diventare Abbastanza facile Essere scoperti Detto questo Posso Proseguire Con le rubriche Marco Paolo Sei tornato Sì Sono di nuovo In linea Hai una sigla Oppure Comincio Ho la sigletta breve Stordino Stordino a qualcuno Forse Ecco qua Bentornati Ad Annali Marziani In questa puntata Vorrei parlare Ancora Della bella mostra Organizzata All'INAF Nel 2010 Di carte E altri oggetti Appartenuti All'astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli Che Pubblicò Fece conoscere Le sue Osservazioni Dei famose Osservazioni Dei canali di Marte Uno degli oggetti Esposti In questa mostra Era molto interessante Ma forse pochi Lo avranno notato Era un oggetto Molto piccolo Una stampa fotografica Delle dimensioni Di una cartolina Illustrata Con lo sfondo nero Sulla quale C'erano dei piccoli Dischetti Messi in righe Colonne Grandi più o meno Quanto una puntina Da disegno Erano fotografie Stampate tutte Su una stessa Fotografia Su una stessa Immagine Su un unico foglio Di carta Fotografica Riprese in momenti Diversi Con Un telescopio All'epoca Molto famoso Tra la fine L'Ottocento E inizio L'Novecento Per lo studio Di Marte Era quello Dell'osservatorio Lowell Fondato da Percival Lowell Uno dei Dei più famosi Sostenitori Dell'esistenza Dei canali di Marte Un uomo D'affari americano Molto facoltoso Che era diventato Astronome E si era costruito Un osservatorio Per studiare Marte Lowell Pur avendo Alcune interpretazioni Un po' Fantasiose Di ciò Che osservava Utilizzava Strumenti E tecnologie D'avanguardia Per l'epoca Al suo osservatorio Tra cui appunto La fotografia Che cominciava A essere introdotta In astronomia Verso la fine Dell'Ottocento E con le quali Quindi con le tecniche Fotografiche Lowell Riuscì a ottenere Al suo osservatorio Le prime foto Soddisfacenti Del pianeta Marte Al telescopio Soltanto nel 1907 E ne mandò Una copia Appunto Una stampa Di una serie Di immagini Riprese in momenti Diverse Proprio a Schiaparelli Ed è quella Che è stata Esposta Nella mostra Dell'INAF Nel 2010 Queste foto Avevano suscitato Molto entusiasmo Tra Lowell E i suoi collaboratori I quali dicevano Di essere riusciti A vedere In queste fotografie Quindi registrate Con un livello Di oggettività Maggiore Di quello Che poteva garantire Un'osservazione Visuale Con l'occhio Al telescopio Di alcuni canali Per la verità Non sono riuscito A esaminare Queste immagini Così da vicino E quindi Vedere Se fossero Effettivamente Riconoscibili In questi Minuscoli dischetti Del pianeta Marte Ma posso capire Questo entusiasmo Perché Queste foto Per quanto piccole Le immagini Del pianeta Marte Per quanto piccole Sembrano effettivamente Molto nitide Ma avevano un problema All'epoca La tecnologia Della fotografia Astronomica E della fotografia In generale Era ancora Agli inizi E le lastre Fotografiche Tra cui quelle Utilizzate da Lawel Con i suoi Telescopi Per quanto potenti Avevano una sensibilità Ancora piuttosto Bassa E rendevano necessari Tempi di esposizione Di diversi secondi Che A causa Dell'agitazione Dell'atmosfera Terrestre Durante le osservazioni Rendevano L'immagine Del pianeta Ripresa al telescopio Piuttosto Mossa E come scattare Una fotografia Mossa Con una macchina Fotografica Anche moderna Se teniamo L'otturatore Aperto Per un tempo Eccessivo E il soggetto Si muove Abbiamo una definizione A risoluzione Inferiore A quella Consentita Teoricamente Dall'attrezzatura Ottica Che Utilizziamo E' passato Circa un secolo Da quelle Fotografie Da quelle Prime Foto Più o meno Soddisfacenti Dell'inizio Del novecento Ma Ci sono stati Dei grandi Cambiamenti Tecnologici In particolare La rivoluzione Digitale Degli ultimi Due decenni Quindi La possibilità Di riprendere Fotografie Con dispositivi Elettronici Che assomigliano A quelli Che abbiamo Nelle webcam O nelle fotocamere Digitali E quello Che all'inizio Del novecento Era uno Svantaggio Quindi La necessità Di tenere Aperto L'otturatore Per diversi Secondi Con le Tecnologie Digitali E' diventato Uno strumento Importante Per ottenere Fotografie Immagini Di migliore Qualità Perché Attualmente Gli astronomi Dilettanti Anche Con strumenti Piccoli Invece Di riprendere Singoli Fotogrammi Realizzano Dei video Di alcuni Secondi E con Algoritmi Di elaborazione Delle immagini I singoli Fotogrammi Vengono Sovrapposti E allineati Combinati Insieme In modo Da dare Un'immagine Risultante Che riesce A raggiungere Una definizione Una capacità Risolutiva Molto più simile A quella teorica Consentita Dal telescopio Quindi Immagino Che Percival Lowell Sarebbe rimasto Sorpreso Dalle fotografie Dalle immagini Digitali Che oggi Raccolgono Riescono Ad ottenere Gli astronomi Dilettanti Con strumenti Anche più piccoli Dei suoi E con Definizioni Paragonabili Quasi Come quantità Di dettagli Visibili Anche alle Migliori fotografie Ottenibili Anche con Telescopi Spaziali O con i maggiori Telescopi A terra E anche con Con questo Episodio Di Annali Marziani Ho terminato Vi do appuntamento Al prossimo episodio Puntuale Il gong Un po' tagliato Non ce la può fare Il mio computer Ragazzi L'encoding video Pesta Veramente tanto Non me lo aspettavo Allora Diamo un altro occhio Alla nostra scaletta Io robot Io robot È una rubrica Che si è inventato Marco In realtà Però l'abbiamo Praticamente Raccontata Tutti quanti Questa volta Toccarichi Stiamo nei pressi Di Marte Anzi Prima lo guardavamo Da lontano Ci andiamo Direttamente sopra E facciamoci un giro Insomma Sì Io non ho La bella Parlantina di Marco Quindi io mi rifugio In un video Quindi Sì Mike Cosa fai? No Segnalo Questo video Che Troverete il link Nelle notte Dell'episodio Non so se Mike Riesce a mandarlo adesso Praticamente Sono una serie Di immagini Scattate Da Rover Opportunity Nel suo viaggio Che l'ha portato Dal cratere Vittoria Al cratere Endeavor Questo percorso Che è stato coperto Circa in tre anni Sono 309 scatti Quindi voi vedrete Fotogramma Per fotogramma L'avvicinamento Del rover La cosa curiosa Che Come colonna sonora Di questo video Hanno Praticamente Usato i dati Che l'accelerometro Di bordo Riceve Quando il rover Si sposta Chiaramente Questi dati Li hanno Trasposti Per avere Un segnale audio E quando Si sente Un rumore Tipo di crepitio Corrisponde A uno Scossone A un movimento Più Sul torio Del rover Quindi Il terreno In quel frangente È roccioso Mentre invece Quando sentirete Tipo Un rumore di fondo Un white noise È praticamente Quando il rover Si trova in una zona Sabbiosa È abbastanza Affascinante Vi consiglio Di darsi un'occhiata Se avete tempo Dura poco Sono tre anni In tre minuti Stiamo guardando Non so se sentite L'audio No Lo sto tenendo Abbastanza basso Perché non volevo Passare Adesso sì Meglio Non va a scatti È effettivamente Una serie di Sequential Steals Quindi Avete visto C'è una Sere di immagini In cui si vedevano Delle tracce Parallele Probabilmente Rover che è tornato Sul suo passo Sì Se ne parlava Anche sul forum Probabilmente È un punto In cui il rover Da quella direzione Non poteva andare avanti Comunque era Difficoltoso Magari l'hanno Rimandato in dieta Ma non sono tutte Riprese Verso avanti Quindi sono anche Riprese Nella direzione Da cui stava Provenendo Quindi le tracce Potrebbero essere Sì No Erano due tracce Parallele Sì Che sono Le Vabbè Certo La maggior parte Sono diciamo All'avanti Nel scienzo D'avanzamento Però è un po' Un mix In realtà No ok Due coppie Per quello Era Notevole Luigi Ah sì Capito Come ci fosse Stato un altro Affianzo Esatto Esatto Un drag race Esatto Io ho guardato il video Aspettando di vedere L'ingresso Nel cratere Victoria Aspettando di sentirmi Magari Delle variazioni Più forti Nell'accelerobot In realtà però A questo livello Di compressione Direi che non si nota La differenza Perché non è che È più adunto È sceso E Sto doveva essere Appunto Il cratere Vittoria Ma è appena appena più Ah Accettibile No non è un po' piccolo Quello non è Il cratere Vittoria E poi Mi pare che quello che si vede Nella distanza Sia al bordo Del cratere Nel Esatto Esatto Rumori Rumori Da Da Un altro mondo Vabbè è una cosa un po' Così curiosa Non è a niente Di Sembra Che arrivi il segnale Disturbato Di qualcosa Sì no L'effetto Assomiglia un po' Ai fulmini In modulazione Di ampiezza Se ascoltate O in Bando laterale In modulazione Di ampiezza Una serata D'estate Quando ci sono Molti temporali In lontananza È facile sentire Suoni di questo genere Sembra proprio I fulmini Il rumore bianco Anche i fulmini Su Giove O su Saturn Non ricordo Sono stati registrati In questa maniera Si sente Una cosa simile Sì è vero Saturno forse Sì 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 Lightning Storm Intanto vi preparate Sì Ricchia Ho letto da qualche parte Che Le cose sono interessanti Soltanto dal secondo 40 in avanti Questo è di 30 secondi Diciamo che ci assomiglia Va bene Link della settimana Riccardo Hai compilato tu La scaletta Come praticamente sempre Con l'occasione Per ringraziarti E Mi pare che siano Entrambi scelti da te Ma sì Sì la scaletta Comunque un lavoro Fatto a 4, 6, 8 Dici mani Quando ci mettiamo Le mani tutti però Questa volta Ho segnalato Sul canale youtube Di Asi TV Potete trovare Una simpatica Intervista doppia Stile Iene Però Con protagonisti Roberto Vittori E Paolo Nespoli E' carina Perché Sono due grandi Professionisti Però hanno carattere Diametralmente Opposti Quindi E' curioso Vedere come Rispondono Alle domande Che gli vengono fatte Sono 4 video E Potete Potete guardare Io non ho avuto Il modo di vederli Vediamo un pezzettino Ciao Sono Roberto Vittori Vittori Quando hai deciso Di fare Quando hai deciso Di fare l'astronauta Sono stato selezionato L'idea E' venuta da bambino Quando guardavo Questi astronauti Che saltelavano sulla luna E facevano le idee rapate Con la jeep lunare Ma la decisione è vera Poi è venuta A 25 anni Con un pochettino Più di senso In testa Perché hai deciso Di fare l'astronauta In realtà Non so esattamente Non c'era un progetto E' stata una coincidenza In febbraio del 1998 Pratica di mare Pilota collaudatore Vengo a sapere Del concorso dell'ASI Sono nome e grado Ho deciso Di seguire il sogno Che avevo pensato Avuto da bambino Perché a 25 anni Ho pensato Di avere Qualche possibilità E che questa cosa Michael Perché hai deciso Di fare astronautica Sono stato selezionato O che mi avrebbe fatto Sentire realizzato La tua prima volta Nello spazio 2002 STS 120 2007 Lanciato da Capo Kennedy Con lo Space Shuttle Questi sono stati I miei primi 15 giorni In orbita La cosa che ti piace Di più dello spazio La vista della Terra La vista delle stelle Il fatto di essere fuori Da questo mondo Di provare Questa sensazione Di vivere In questa nuova Con queste nuove leggi Senza La forza di gravità E la capacità Di guardare giù E vedere la Terra Nel suo insieme Quella che ti piace di meno Il mangiare A dire la verità È il rientro Che forse Quando uno sta in orbita Vabbè Lo lasciamo guardare Allora io spero Veramente che Non ho mai avuto modo Di parlare con Con il colonnale Vittori Spero che Abbia un po' Di sensazione D'umorismo E si diverta Perché è troppo facile Ridere di questa cosa La differenza comunicativa Tra i due È veramente abissale Abbiamo Paolo Che è un chiacchierone Uno che ama Parlare E raccontare le cose In maniera molto Grafica Molto divertente E dall'altra parte Abbiamo un militare Un militare Proprio Professionista Diciamo Nome Grado Matricola E nient'altro Come se fosse interrogato In terra nemica Allora Qui come al solito La regia mi abbandona Voilà L'altro link invece È una cosa Un po' più Da Da feticisti Dello spazio È praticamente Un grafico Che hanno Fatto Due Due tizi Un certo Tommy McCall E Mike Orkut Che praticamente Hanno messo Hanno conteggiato I lanci spaziali Non tanti lanci spaziali Ma Il numero Dei payload Che le varie nazioni Hanno lanciato Nello spazio Dal 1957 Ad oggi Sono divisi Per nazionalità E quindi Il grafico Mostrerà Sulla sinistra Due grafici Più preponderati Che sono chiaramente Quello Dell'Unione Sovietica Prima Russia Dopo E degli americani Però ci sono anche Gli altri Paesi E in più Abbiamo Le barre Sono colorate Diversamente In corrispondenza Del diverso Diciamo Del diverso Payload Scopo Del payload Se era militare O commerciale O anche amatoriale Insomma È carino Poi hanno fatto Questo grafico Che è simmetrico Cioè le barre Sono simmetriche Quindi fanno Queste forme Che come ho scritto Sembrano un po' Delle astronavi Viste in pianta Delle navi Di Star Trek Dietro Dietro quella Degli Stati Uniti C'è scritto We break for nobody Esatto Me la sbatto La cintura E poi No è carino Tipo notare Che ad esempio La Cina Che ultimamente Sta avendo Un picco Per quanto riguarda L'attività spaziale Vedrete che Il suo grafico Ha Verso il basso È molto sottile 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 Poi Man mano Ci avviciniamo Ai giorni nostri Si sta Ingrandendo Cioè la prua Della nave Della astronave Si sta Facendo preponderante È un grafico Carino Ci sono degli spunti Interessanti Anche l'Italia Insomma non è messa male Comunque i primi lanci Cinesi risalgono Agli anni 70 Non credevo Si i primi Lunga marcia Credo Della metà Degli anni 70 Ah si Cioè uno Poi Per qualche Un programma Metodico Lento ma metodico Quello spaziale cinese Eh insomma Poi si Si possono fare anche Delle considerazioni Del tipo Insomma vedere Quanti Pailod Militari Sono stati lanciati Eh cioè Fa molta impressione La Russia Vedere Tutto questo Questo sacco Di rosso Molto Preponderante Mentre per gli americani In realtà È più Più contenuta La cosa Anche se Ha Diciamo Intorno all'inizio Degli anni 50 60 Gli americani Sembra che lancino Un po' di più Dal punto di vista militare Poi invece dopo Insomma Una cosa Carina Simpatica Secondo me l'hanno Graficamente Per uno che Insomma Si interessa di queste cose È un punto di vista diverso Con cui Maneggiare i dati Sarei curioso di sapere La differenza Tra governativo E militare Perché Governativo Specifica non militare Però Tipo un lancio Shuttle Immagino sia tipico Un lancio Governativo Insomma Fatto da un ente Governativo Ah ok Satellite per esempio Della NOAA O cose di questo genere Guardavo Per quanto riguarda La Russia L'Unione Sovietica Aveva Una proporzione Fortemente Spostata verso il militare Rispetto ai lanci Governativi Che comunque Erano gli unici Non c'era Nessun tipo di lancio Commerciale Quando si parlava Di Unione Sovietica Al crollo Della Unione Sovietica Nel 91 Vediamo che I lanci militari Sono molto diminuiti Ma non sono scomparsi Quelli governativi Sono ridotti Ma sostanzialmente Rimasti Nel nostro Sordine di grandezza E poi Dai primi anni 2000 Sono Fini anni 90 Sono iniziati anche Timidamente A spuntare I lanci commerciali È un po' Stare della Della politica Non soltanto Dello spazio Vedere questi Grafici qua Che bello Mi piace proprio Questo grafico Lo metteremo Nelle note Dell'episodio Sono i due link Della settimana Una volta Facciamo fatica A trovarne uno Adesso ce ne sono Sempre a Abizzef Questo l'ha segnalato Qualcuno Sul forum Io L'ho trovato No l'ho trovato Mentre scartavo Su direi Universe Today Dove ho visto La news All'inizio Va bene Allora Rapido sguardo Alla scaletta Tutto è stato Crocettato L'appuntamento Allora può Andare Alla settimana La prossima Rapido sguardo Alla calendaria Ok 20 di ottobre Giovedì prossimo Rapido sguardo Alla i-file Per preparare La sigla Intanto Facciamo un giro Di saluti Io sono Michael Sacchi Dagli astronautica Studios Sempre da Milano Ma non dagli studios Vi saluta ancora Paolo Amoroso Un saluto Anche da Carmagnola Da parte di Luigi Morielli E un saluto Da Modena Da Riccardo Rossi Per gli amici Ricchia Real Ci vediamo Giovedì prossimo 20 di ottobre Ci ascoltiamo E ci vediamo Altrimenti ci trovate Su astronauticas.com Su youtube.com Slash astronauticas Se avete anche La malsana idea Di rivedere Le nostre facce Fino ad allora Ad astra Non so cosa è successo a Ricky Ma è riuscito a cadere Anche dal Dal hangout Perché ci stava citando Avrò strappato qualcosa Ciao a tutti Alla prossima Grazie a tutti